Se volete domani, ovvero venerdì alle ore, facciamo alle ore 17, farò il give di un piccone non potente quanto questo, ma un piccone che sarà efficienza 5, un breaking 3, fortuna 3, però con excavation e explosive, quindi cercherò un attimo di scegliere uno dei due, anche perché magari qual è l'enchant più perlivato che molti di voi cercano, quindi se volete entrate nel server, trovate qui sotto l'IP come solito ovviamente, e potrete tranquillamente ricevere questo strano gift, ovviamente lo metterò nell'asta visto che c'è anche il sistema di aste, Quindi vedrò di tipo farvi vendere un po' di roba, magari non nell'aste perché forse lo comprano a quelli che hanno più soldi, non lo so, vedremo comunque, in ogni caso venite domani nel server alle ore 17 Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie prize, ragazzi siamo di nuovo qui su War Academy, finalmente, ho un attimo spettato che i ragazzi risolvessero qualche problema relativo a alcuni bug che erano presenti dopo la riapertura del server, quindi tranquilli adesso dovrebbe essere tutto funzionante E anzi vi invito ad entrare nel server se comunque non avevate tipo finito ancora di arrivare all'ultimo rank, perché comunque in realtà tipo mi hanno restato l'account per quanto riguarda me, perché ho chiesto un attimo di risultarmelo di nuovo, perché sarebbe stato stupido avere diciamo le cose un po' indietro, anche perché comunque hanno cambiato un paio di cosette Abbiamo aggiunto un nuovo spawn ragazzi come state vedendo, dove ci sono un paio di cose, e la cosa bella è che tipo se andate all'inizio ragazzi, fa un po' teleportare in varie zone, mi sa che non mi hanno dato le cave, perché volevo un attimo aprire qualche cave, ma vabbè non c'è, parliamo in futuro Qua abbiamo il centro con la miniera, qua abbiamo l'enchant dove possiamo comprarci l'enchant con gli speciali, e poi ci sono i crate con le crate ovviamente, qui c'è invece l'arena pvp, che adesso tipo è diversa rispetto alla mine, perché c'è la mine centrale dove ci sono i minerali, ok? Dove c'è anche del pvp ovviamente, ma c'è anche una zona per il pvp vero e proprio, quindi se volete fare il pvp vero e proprio c'è una zona un po' più larga rispetto a quella precedente, dove potete fare del pvp, combattere con altre persone Ora, io ho 42 livelli, butterò questa roba qui, che tanto non mi serve benissimo, anzi no, in realtà mi serve perché sono a rank A, quindi andiamo verso il rank iniziali, e iniziamo a livellare senza problemi Quindi warpa ragazzi, eccoci qua, andiamo a rompere un po' di roba che abbiamo qui, per comunque riuscire a salire ai prossimi rank Vi ricordo che il price of funzione in questa maniera, avete dei rank in cui diciamo dovete recuperare degli oggetti da vendere, questi rank vanno dalla prima lettera dell'alfabeto fino all'ultima, quindi dalla Z, contando anche lettere straniere Quindi sono in teoria 24, giusto se ricordo bene, 24-25 lettere, ok E che succede? Che arrivata l'ultima lettera ragazzi, riuscirete ad uscire fuori dal price, quindi da questa prigione, perché in realtà l'idea è che tipo tu con i lavori forzati riesci a scappare da questa prigione E una volta finita questa cosa, possiamo ufficialmente essere liberi, finalmente pronti ad uscire dalla prigione e ad essere delle brave persone Molti save per esempio usano questa scusa per poter poi iniziare a fare un faction dopo questa price, però l'idea è che noi abbiamo fatto il faction per ora e anche l'OP faction Che vi porterò in futuro anche perché adesso stanno facendo un po' di manutenzione, quindi non preoccupatevi, torneranno ad entrambi le serie anche perché comunque è una serie che vi piaceva tantissimo E come volevate che portasse su questo serie, quindi non preoccupatevi, abbiamo tutto quanto Comunque sto recuperando come vedete un po' di coal e una volta recuperato coal e anche la nostra sandstone, possiamo andare a venderla qui dentro Quindi vediamo tutto quanto, ci dà stanto 107, noi dobbiamo arrivare a 1000 per il prossimo rank, quindi ranchiamo più che possiamo anche perché ci servono tipo un sacco di cose Ovviamente io non accetterò regali come ho sempre detto un sacco di volte, quindi non datemi roba anche perché sennò butto la roba alla gente che magari ha meno roba rispetto a me, ovviamente E oltre questo ragazzi miei, i soldi che mi andate a donare verranno ridonati comunque a magari persone a random in chat Quindi non donatemi soldi perché magari non vanno a finire a me come pensate perché, insisto, non è una cosa che faccio io, mi dispiace davvero Però non mi piace essere boostato, credo che la serie si debba in qualche modo giocare tranquillamente da soli Ho finito il primo piccone che ci danno in automatico, quindi adesso abbiamo forza andare a vendere Una cosa importante, se vedete il piccone come ho fatto io e avete bisogno di roba, ovviamente qui c'è accanto un bellissimo fantastico posto dove potete recuperare oggetti, non preoccupatevi Oltre questo c'è sempre slash kit che vi dà anche kit starter, anche se a me non piace, è sincero perché sennò è una rottura di palle mettere sempre kit starter e cose così Quindi ci facciamo i picconi normali, legno, recuperiamo tipo 1-2 stack di coal e poi siamo a posto per servire di rank, non preoccupatevi Abbiamo per esempio ancora l'armatone in diamante, quindi potrei optare per una soluzione molto interessante, vorrei andare qua nella miniera e recuperare del ferro Solo che mi sa che non c'è del ferro, cioè c'è tutto tranne che il ferro, ma sei serio? E questo potrebbe essere un problema che a me sia del ferro Ok facciamo così, allora salgo un attimo di livello, così prendo un po' di ferro, lo cuocio e una volta ho fatto il ferro ragazzi metto a farmi un piccone e recupero un po' di diamanti da lì Lord Shiny ci ha regalato 3 Iron Ingot, so che ho promesso di non recuperare roba dalla gente, però Iron Ingot, quali mi servivano? Quindi ne ho volete dentro lo spawn, tanto a vivere non è give di picconi superpotenti, ma semplicemente mi serve per passare al prossimo rank Anzi più che altro mi serve per un piccone, bello bello, quindi facciamo così, buttiamo sta roba, c'ho piccone brutto E ragazzi adesso si affronta la roba, ci sono poche persone, meno male, perché sto dicendo anche un orario abbastanza brutto Soprattutto perché c'è la scuola per molti di voi a questo orario, però sti cavoli va bene Allora, oddio mi serve, mi serve questo, mi serve, oh merda, ora come si esce, come si esce? Oh mio dio, Jenny, Jenny si è, si è bravo Jenny, ok sono uscito dallo spawn principalmente con un blocco di diamanti Ok, felice, felice di questa cosa perché adesso posso farmi un piccone di diamante, che bello Allora andiamo un attimo qui, facciamoci facilmente degli stick, meno male che c'era tanto Jenny che ci conosceva Se c'era qualcun altro ci faceva il culo, immaginate E ci faccio un piccone bello, più che altro lo enchantare adesso non posso Quindi a questo punto utilizzo il metodo Ulisse, ovvero andiamo verso gli enchant da qua Abbiamo tipo 10.000 token, che comunque si ricavano sia scavando sia comprandoli tramite boycraft E noi li abbiamo presi normalmente perché siamo bravi E ci andiamo qui, efficienza massimo, basta cliccarci più che possiamo Efficienza X, unbreaking X, va bene, se ci riusciamo E poi fortuna X, forse mi sta levando davvero troppi token Ok, abbiamo tutto qua l'altro completo, ci prendiamo in realtà Escavation o explosive? Escavation ragazzi, abbiamo spiegato quanto Più o meno 7.000 Ok di token, però abbiamo un piccone Adesso super potente Bene ragazzi, ora vi faccio vedere che diamine fa questo piccone Subito, subito Diamanti ci servono, al momento non proprio, buttiamo sta roba anche Andiamo verso il warp A E adesso vi faccio vedere come si sale subito al warp Non lo so, a un warp qualsiasi Senza problemi facendo Escavation ragazzi Guardate qua che figo Escavation tipo è utile perché possiamo scavare tipo 3x3 Fa abbastanza cose utili sicilamente Perché rompe un sacco di roba, però il mio consiglio è di utilizzare l'altro se volete farmare livelli alti Perché a livelli alti avete bisogno sicuramente dell'altro enchant Non preoccupate, io come abbiamo un sacco di roba abbiamo Che figa sta cosa Ok, ora sicuramente con tutte queste cose abbiamo preso livello B O rank B in questo caso Lo raggiungiamo senza problemi Quindi andiamo subito a far così Ok, possiamo fare il flash rank up Abbiamo un rank B E c'è un rank crate K Che possiamo utilizzare direttamente allo spawn Verso le crate Per poter aprire una crate normale che ricevi quando ranki Quindi ogni volta che ranki riceverai una crate Andiamo un attimo qui E tipo andiamo in quella normale Rank crate ragazzi Apriamo un attimo vediamo cosa ci possiamo trovare Spero in un diamanti Vabbè ok in diamanti Ci può stare In realtà speravo in vendite regolari di altri oggetti Ma va bene anche così E in realtà adesso se andiamo tipo nel warp Nel secondo warp abbiamo sbloccato il B Abbiamo anche la cobblestone Bugia Nel warp PC mi sa che c'è la cobblestone forse Andiamo a vendere magari il diamante Che abbiamo venuto a un prezzo più o meno misero Anche perché non è che li vendi a troppo grande i diamanti Però più che altro ragazzi non si può fare niente Sopriamo quindi un sacco di oggettini Perché dobbiamo fare 2000 questa volta Ovviamente li facciamo molto velocemente questo piccone Rispetto a prima che ci avevamo messo tipo 10 minuti Per fare quell'uncappa Immaginate quanto diamine sia Faticoso farlo all'inizio Ma è normale ragazzi Ovviamente andando avanti nel server Troverete sempre più minerali E sempre più enchant da fare Come vedete ho preso 5 token Per aver spaccato 10.000 Cioè 1000 blocchi scusatemi Quindi non i 1000 blocchi Fate un po' il conto E tipo dopo tutti i token Riuscirete a fare anche l'enchant Tutto quelli nuovi Quelli più fighi che sono tipo da 2000 Che sono l'escavation e l'altro Quindi vi consiglio quelli Perché in realtà sono i più utili al momento E mi sa che mi conveniva vendere tanto il core Sapete ma tanto ne vediamo tutto Sti cavoli Abbiamo 1.900 Abbiamo fatto subito Abbiamo sì 3.300 Quindi facciamo slash rank up ancora Saliamo verso il rank C E andiamo ad aprire un'altra rank rate ragazzi direi Ma sì quasi quasi Apriamo un'altra ragazzi Magari abbiamo fortuna Ci troviamo un'altra Possiamo anche non fare Direttamente slash spawn Ma andare direttamente qui in warp E nelle crate Così apriamo velocemente Quindi vediamo un attimo Però in 10.000 O nei token Che sono in realtà Quelle più prelibate di ricompense Altre diamanti Che diamine ne faccio di diamanti? Me lo dovete spiegare Perché in realtà io non so che farmene Comunque Andiamo verso il warp C E questa volta livelliamo Verso il prossimo Come state vedendo Aumenta pian piano ovviamente il valore Quindi all'inizio era poco Adesso inizia a diventare più grande Adesso ci sono i ferri Quindi i ferri valgono molto di più Rispetto al core Quindi più velocemente saliamo di livello E verso il rank prossimo ovviamente Altri 2.000 fatti ragazzi Ok devo dirvi Cioè io rank velocemente Ma quale è normale all'inizio Soprattutto questo piccone Ragazzi immaginate Anzi una cosa importante Magari ve lo dovevo dire Tipo all'inizio Infatti probabilmente Ve lo dirò da capo all'inizio Questa cosa Ovvero che Se volete Domani Ovvero venerdì Alle ore Alle ore 17 Farò il give Di un piccone Non potente quanto questo Ma un piccone Che sarà Efficienza 5 Un breaking 3 Fortuna 3 Però con Excavation E Explosive Quindi cercherò un attimo Di scegliere uno dei due Anche perché magari Quale è l'enchant più perlivato Che molti di voi cercano Quindi se volete Entrate nel server Entrate qui sotto l'IP Come solito ovviamente E potrete tranquillamente Ricevere questo strano gift Ovviamente lo metterò nell'asta Visto che c'è anche il sistema di aste Quindi vedrò di tipo Farvi vendere un po' di roba Magari non nell'aste Perché forse Lo comprano quelli Che hanno più soldi Non lo so Vedremo comunque Non di caso Venite domani Nel server Alle ore 17 E anche il grado D L'abbiamo fatto ragazzi Quindi ci siamo Facciamo direttamente Slash rank up Andiamo ad aprire ovviamente Queste altre due Ed è che potremo anche Completare per oggi La puntata Se riuscite ad arrivare Al rank E Che comunque Tanta roba Ricorcieremo magari Com'è il rank E Però abbiamo già del gold Adesso Sì sia gold Che ferro La cosa bella è che tipo Quando lo scavate direttamente Si cuoce Quindi molta roba Molto figo come cosa Vedete bam E vediamo un attimo Quanto vale adesso Il ferro Perché non lo ho visto Ah qui c'è un piccolo problema Magari con i doppi Sell sapete Forse devo farlo risolvere È un problema abbastanza Fastidioso Vediamo un po' Sell di ferro 5 Sell di gold 7 Oddio non è che valga troppo Però fate caso Che già a questo livello Potete prendere i piccoli in ferro Prendendo comunque Anche del diamante Dal centro Quindi potete enchantare Senza problemi State messi bene Anzi se riesco Vi metterò un po' Di lapislazzi in giro Per fare enchantare un po' Di rock Perché so che è difficile Prendere all'inizio Un piccone bello potente Con l'enchant Quindi non preoccupate Vi avremo anche quello In ogni caso L'abbiamo arrancato Credo di sì Prossimo rank 10.000 avete visto Che già aumenta Tipo del doppio Quindi adesso andiamo Verso lo spawn Anzi no Direttamente verso warp E poi slash crate Perfetto E andiamo ad aprire Queste due gran crate Spero di ricevere un po' Di soldi O dei token Insisto Vediamo un po' 32 diamanti Vabbè Ce li facciamo bastare Magari vi giro anche quelli E invece secondo Mi darà benissimo Un kit VIP Eh questo anche ci può stare Sicuramente Perché il kit VIP iniziale È anche buono C'è un armatura Con protection 2 C'è un piccone con Efficienza 2 Raking 2 Fortuna 2 Quindi perché no Ci può stare Quindi direi ragazzi Che possiamo concludere Per oggi la puntata Vi ringrazio Per avermi seguito Anche per questo nuovo episodio Del prison Ricordo che trovate qui sotto L'IP ovviamente E che mi troverete nel server domani Insisto Ve l'ho detto sicuramente Anche all'inizio del video Perché so sicuramente Che molta gente Magari non guarda metà video Quindi meglio evitare Di perdervi delle cose Più importanti Magari che ho dato metà video Domani sul server Alle ore 17 Mi raccomando Ciao ragazzi E al prossimo video Ciao